Abbiamo un'azienda che si chiama Realizzatore di Idee, dove protopizziamo e realizziamo mobili su misura e a volte ci divertiamo anche a realizzare oggetti come questo, che è l'ITOC, un amplificatore acustico per smartphone. ITOC sta proprio a indicare TOC, TOC A Claim, dentro il dialetto mantovano. Siccome l'Italia è piena di queste industriali che ormai sono decadute, se venisse sfruttata come in questo caso sicuramente si potrebbero dare delle potenzialità maggiori ai giovani e a tutto l'indotto della città, comunque anche a corte turisti, intanto che sei qua magari vai a vendere qualcosa d'altro e quindi potenzialmente ha delle grosse possibilità. All'estero il Made in Italy viene apprezzato, gli viene dato il giusto peso rispetto ad un cliente tradizionale italiano. Secondo me il factory market è fatto molto bene, dalla logistica a come è stato pubblicizzato, a come viene poi gestito all'interno, è uno dei migliori eventi ai quali abbiamo partecipato e consiglio assolutamente di partecipare. All'estero il Made in Italy